Questo è l'articolo numero 11 della nostra Costituzione, insieme all'articolo 32 rappresenta un po' il fondamento del pensiero e dell'attività di Emergency, che per Natale, quest'anno a Genova, ha preparato delle iniziative particolari. E in panchina, questa mattina, troviamo Monica Mocellini, una delle volontarie di Emergency, buongiorno Monica, benvenuta, che è qui con noi per raccontarci quelle che sono le iniziative in vista del Natale proprio del gruppo Emergency di Genova, Monica. Esatto, come ormai da cinque anni a questa parte, Emergency, durante il periodo natalizio, apre negozi in tutta Italia, tra cui anche qui a Genova, e quest'anno è in via Garibaldi, in un bellissimo palazzo dei Rolli, via Garibaldi 12, per la raccolta fondi. Ogni anno, i soldi che si raccolgono con le vendite nel negozio, sono devolute a un progetto in particolare. E quest'anno, il progetto che viene fidanziato con la raccolta di Natale è il Programma Italia. Di cosa si tratta? Allora, il Programma Italia, proprio a proposito dell'articolo 32, che dice che la salute è garantita per tutti gli individui ed è gratuita, purtroppo la povertà non è solo fuori dall'Italia, è anche in Italia. Quindi Emergency opera in Italia, con una serie di poliambulatori, da Palermo a Marghera, quindi da nord a sud, e anche con dei polibus, cioè degli autobus, che sono adibiti ad ambulatori e che si recano là dove i migranti, non stiamo a controllare se è regolare o meno, comunque tutti i migranti che lavorano nei campi, soprattutto nel sud, vanno a lavorare e hanno bisogno di assistenza sanitaria, diciamo. E quindi non potendosi recare nelle strutture apposite, o perché per paura non si recano, o per mancanza di informazione, Emergency va da loro, ovviamente, per dare loro le prime cure ambulatoriali. Quindi, accorrete numerosi al negozio, perché c'è bisogno di voi per finanziare questo progetto, che è solo uno dei tanti di cui si occupa Emergency, lo vogliamo ricordare? Sì, perché Emergency si occupa di Afghanistan, ormai dal 99, ovviamente Sierra Leone, Repubblica Centroafricana, Iraq, Sudan, dove c'è un centro cardiochirurgico importante per la regione, per la macroregione, e ovviamente tutta una serie di progetti che adesso comunque sono già chiusi, ma che in passato Emergency ha seguito, insomma. Quindi il negozio, volevo ricordare, è che è aperto fino al 24 dicembre. Allora, dalla parte seria, che è questa appunto che ricordava Monica sugli impegni di Emergency, passiamo a quella un po' più faceta, come si suol dire, perché Emergency ha anche organizzato dei turni di commesse e commessi per un giorno. Se non sbaglio, sarà Carla Signoris ad aprire la Kermesse. Allora, Carla Signoris ha aperto la Kermesse domenica scorsa. Ci sono fatti, diciamo che il negozio di Natale non è solo un negozio per vendere, ma è anche e soprattutto un punto di aggregazione, un punto anche di informazione ai cittadini per conoscere meglio le nostre attività. E tra le attività che vengono svolte, per esempio, ci sono laboratori per bambini. Per esempio, il 3 di dicembre ci sarà un laboratorio fatto da fumettisti per i bambini e non bambini. Poi ci saranno presentazioni di libri, ricette legate al Natale, per esempio il classico pandolce genovese, una bellissima mostra fotografica sull'etnia degli uomo. Insomma, chi più ne ha più ne mette. Infatti, diciamo, le attività si chiamano i 20 eventi, perché sono 20 eventi che si snodano nel corso di tutti questi giorni in cui il negozio di Natale è aperto. E tra questi eventi ci sarà anche la mia presenza. Mi vergogno un po' a dirlo, però visto che gli amici di Emergency mi hanno chiesto di appoggiare come X Liguria la loro iniziativa, mi troverete come commessa per un giorno il 21 di dicembre. Appuntamento quindi in via Garibaldi. Grazie Monica, buon lavoro. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie.